Buongiorno ladies and gentlemen, I'm more than happy to speak with you from this beautiful location, Villa Reale, located in Monza, close to Milano. Despite the disruption caused by the pandemic, I want to be optimistic and share with you some good news directly from Italy. Because today I would like to present the International Track of the Year Award to the winner. The International Track of the Year Award is the most important one in the transport industry. Created by Pat Kenneth in 1977, it has become over the year a benchmark for the entire automotive industry. Every year we test and drive different kinds of trucks, but only one can get the award. Are you curious of knowing who it is? And the winner is MAN TGX. This truck, that retains a strong family feeling with the present heavy-duty generation, represents a big step forward in terms of comfort for the driver, fuel efficiency, connectivity and the human-machine interface. But I'm not the only one who sees it that way. I'm not the only one in selecting this truck as International Track of the Year 2021. The entire Truck of the Year Jury is behind it. So let me introduce my colleague from all over the world. New TGX represents a giant leap forward in terms of both safety and driver comfort. What's more, it looks fantastic. The external styling is bold, but it's the interior where the new MAN Truck Generation really excites. For me, there are two reasons why the new TGX International Truck of the Year 2021 is. That is, for the first, the whole new driver's house with many comfort features. And, perhaps the most important for me, it has with 23,16 liters of average consumption an absolute record on the one-truck test route. It has a good balance between the power of the car and the whole new generation, which is involved in the transport of the car. Inovazioni in molti popolini di MAN sono davvero molte. Uno è questa incredibilità, efficace e intuittività, e l'altra è la nuova e elettrica e elettrona arfittura di camion. Questa nuova gamma di MAN ha dato un gran passo in comparazione con la sua predecessora in lo referente tanto a tecnologia, come disegno e consumo di combustibile. Inoltre, i sui motori Euro 6D, in combinazione con la trasmissione, e il software di nuovo sviluppo, aumenta su efficienza, lo che riduce i costi operativi, un factor molto importante per tutti i clienti. La MAN-TGX è la terechte International Truck of the Year 2021. Il ha un nuovo nuovo design e è davvero creato per il chauffe. Ma con una buona trasmissione e buona tecnologie, ha anche il negozio di cliente. Il nuovo MAN-TGX è una trasmissione che davvero molto bene. E la economia? Che non è una trasmissione, che non è una trasmissione. Questo è un trasmissione che davvero delicta i transporti e i diritti. Non è un po' di cui questa trasmissione ha scegliato il Trac of the Year 2021. È un'immagine di futuro orientazione, che può rispondere al trasmissione di oggi e di sì. e ho una trofe per questo traccio che solo il vennero può mostrare questo è il vostro, congratuloci Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. After 13 years, we have brought the Truck of the Year Award back to MAN. The award is the most important title in our industry. And at the same time, it's a great recognition of the outstanding work of our MAN team. For more than five years, and often day and night, the team has worked towards only one goal. To develop the best truck for the drivers and to bring it on the road. We have achieved this. And for this, we received this great award. This is an incredible success. A big thank you. You did really a great job.